Alice, ma hai visto? Eh sì, delle letterine piene di scotch Così ti diverti Alice, non prendermi in giro Sì, sono piene di scotch, ma io ce la farò ad aprirle In bocca al lupo Ebbene, ciao ragazzi, oggi vi faccio un video di letterine Oh, che bello era ora perché la camera di là è piena di letterine Eh sì, Alice, ma non è che devi dire proprio tutto, tutto, tutto Sei seppellita di letterine Sì, lo so Sai la colpa di chi è? Tua che non le leggi No, io ne leggo tantissime La colpa è di qualcuno che le stuplica Oh, non ho capito, non ho capito, sono smampita Uh, ecco, quando sei tirata in mezzo, eh, te ne vai È ovvio, vado a stupicarne un altro po' No, stai ferma Uh, uh È ok ragazzi, cominciamo a leggere un po' di letterine Guardate quanto sono belle, queste sono uscite da un pacchettino Adesso le apro e vediamo cosa c'è dentro Wow, guardate quanti pacchettini e quanti regalini Capite perché sono lenta a leggere le vostre lettere? Perché ogni letterina che voi mandate è piena di pacchettini come questi Girati da un chilometro di scotch E quindi ci metto un po', però le leggo tutte quante Allora, andiamo a vedere chi ci scrive E sono due amiche Sono Angelica e Anita Hanno nove anni e ci hanno fatto queste letterine bellissime Amano tutte e due le LOL E ci scrive Anita che secondo lei il nostro canale è grandioso È il canale più bello di sempre E le piace Master LOL Barbara, ma stanno trapanando nel palazzo? Sì, Lollina, lo sai che come io accendo la telecamera Automaticamente nel palazzo qualcuno comincia a demolire l'appartamento Ah, che fatica Andiamo a vivere in un'isola deserta Le Maldive, va bene? Sì, mi piacerebbe molto Ok, andiamo Eh, magari fosse così facile Vabbè, scusate il trapano del vicino, però andiamo avanti E ci mandano anche un sacco, un sacco, un sacco di regalini C'è questo bellissimo stemma con il mio logo Poi ci sono delle mollettine Guarda che si sono inventate Dei braccialetti Poi ci hanno fatto, vedete, ci hanno scritto bell Poi un portachiavi Poi c'è questo che è per me Vediamo quanto sarà, lo apro insieme a voi Un braccialetto, grazie Che bellino, tutto zig zag Poi un altro braccialetto di gomma Ah no, bell è B e L, scusatemi Barbara e Lara Poi vediamo un po' Adesso questi altri li apro con una magia Anzi no, li ho aperti senza la telecamera acceso Se no ci mettevo tantissimo Guardate quante cose carine Ci sono alcuni dolcetti Alcune cosine che potremmo usare in master Allo visto che vi piace tanto B e L Ragazzi, vi ringrazio tantissimo E adesso voi vedetevi un'altra carrellata di letterine Lollina, guarda come ti ha disegnato carina Arianna Ma che carina, grazie Arianna Sì, lei ha otto anni Dice che il primo video che ha visto nostro È quello delle bombe da bagno Ti ricordi Lollina? Sì, perché mi avete fatto fare il bagnetto nelle bombe da bagno Eh sì, infatti E quindi ci chiede se faremo lo schiaccianoci O altre storie O se o no Perché non provate a customizzare una lor fake? Guarda, molto volentieri Ci piacerebbe tanto e probabilmente lo faremo Allora, quando mamma mi ha detto Che potevamo spedire una letterina Sono corsa a scriverla Sono molto contenta Ringrazio la tua mamma Perché trovo che scrivere le letterine di carta In un mondo tutto digitale In cui avete i telefoni, i tablet Sì, ancora una cosa bella, insomma Vedo poi quanta passione ci mettete E grazie anche di tutti quanti i regalini Guardate che bella questa Winx Non so se l'hai visto già In questi giorni abbiamo fatto il video delle Winx Settine che stanno in edicola Che sono così carine E ci sono due belle carte Pokémon Che darò a Emanuele Adesso non c'è perché È il penultimo giorno di scuola È a scuola Quindi ti ringrazio Vedrai che sarà felicissimo di riceverle Grazie Aurora e Gabriele Ci mandano tutti questi bellissimi disegni Guardate Tombolo, TPP Eccetera E qui c'è Fashion E questa bella letterina Ah no c'è un altro E c'è anche Alice Grazie ragazzi Ecco la bombonna di Dalia Che ha 6 anni E abita a Randazzo Che è un paese che sta sull'Etna Che è il vulcano che sta in Sicilia Guardate quanto è carina La colorata E ha anche profumato la letterina Grazie E questo è il bellissimo disegno Che ci ha mandato Andrea Che ha 8 anni E ha mandato anche questo bellissimo segnalibro Con Gregorius Per Lara Grazie Andrea Che bello questo disegnino Con le gambe lunghissime Che ha fatto Giulia Che ha 6 anni E piccolina Infatti questa letterina La scrive la sua mamma Flavia Che salutiamo Ciao E questo bel disegnino L'ha fatto Giulia No L'ha fatto Giulia Ah sì E mi ha regalato anche questo bel gattino Oh che bello Alice Sei contenta? Molto Grazie Giulia Lollina hai visto? Sì Siria da Brescia Mi ha fatto una cornicetta Con il mio disegno Hai visto che bello Ha fatto la cornicetta Con dietro Guarda È troppo carina Poi quest'altro bellissimo disegno La letterina Che è troppo carina Dolcina Ha scritto benissimo Guarda come disegna bene Molto precisa E ci ha fatto anche Anche lei Una lol Di carta Però è diversa Perché la sua si apre così E dentro c'è lo spinner Della scatola delle lol Bellissima idea Grande creatività Bravissima E questo è il disegnino Di Giulia Che ha 7 anni Ti piace come ti ha fatto? Sì Sei bravissima Grazie C'è anche tecnicamente Questa letterina È piccolissima Adesso la andiamo ad aprire Oh questa la saluto io E perché? Perché ha chiesto il mio saluto E perché si chiama Alice Eh sì Si chiama Alice E a 9 anni E ci ha fatto questo bellissimo Fiore del nostro logo E poi due scritte Da colorare Ti ringraziamo tanto Ciao Alice E questa è la letterina Di Guendalina Che fa la prima A e a 6 anni A tante lol E chiede se facciamo La sirenetta Barbara Quando è che facciamo La sirenetta? Lolina la faremo Molto molto presto Sicuramente Sarà una delle prossime Favol E ci ha regalato Questo bellissimo Braccialetto di macramè E che stava dentro Questo pacchettino Pieno di adesivi Sei bravissima Grazie E qui c'è un'altra Giulia Veramente? Sì Che ci scrive dalla Sardegna Ci ha fatto questa bellissima letterina Questa grandissima Fashion E questa stupenda lolina Grazie Alice Eh C'è un'altra Alice Oh ma veramente? Sì Che ci scrive dalla Sardegna Anche lei Che bello Eh sì Ci ha fatto questa bellissima letterina Con una carta stupenda E dice che ha 7 anni E poi ci ha fatto un sacco di regalini C'è anche per voi Oh grazie Che carina La letterina di Virginia Che dice È la prima letterina che vi scrive Ma è quella che scrive Con più affetto e passione possibile Disegni veramente molto molto bene E qui che altro c'è? Un cuore Che ha scritto Il I love tp team Ti ringraziamo tantissimo Beh Che ci fate voi qui? Noi dobbiamo salutare Francesca Ah sì? Eh sì Perché lei Ha obbligato la sua mamma Iscriversi al nostro canale Sì è vero E ci ha mandato anche questi disegni Bellissimi Quindi Noi ringraziamo te Francesca Perché sei bravissima a disegnare Ha scritto Apri 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 E questa è la tua bellissima letterina Scrivi pure molto molto bene Grazie E un grazie anche alla tua mamma Perché appunto C'è scritto delle cose carine E ha detto che appunto Condivide L'affetto che hai per noi Ti ringraziamo tantissimo Eh sì Rocker Eh dimmi Questa letterina richiede i tuoi saluti Oh è di Vittoria Sì Grazie Vittoria Dice che sei la sua lol preferita Anche se non ti ha ancora trovato Beh con un po' di fortuna Magari la serie glitter Ancora in giro Guarda questa letterina Ce l'ha scritta Il 27 febbraio E la leggi oggi Brava Eh ma sono troppe le letterine Quindi alcune si accumulano E le leggo molto in ritardo Ma guardate quanti regalini meravigliosi Ci ha fatto Ci sono alcuni Che devo ancora scartare Li faccio scartare Lara quando torna Perché oggi è tipo Il penultimo giorno di scuola E io sto girando di mattina Mentre Lara è a scuola Poi vi farò vedere I video lì Poi come sapete Li programmo In base al calendario Agli orari Eccetera eccetera Eh E quindi questi altri regalini Si li apri Lara quando torna Sì Grazie ancora Ma sai che scrive proprio bene Sì Scrive benissimo Ah ti faccio vedere un'altra cosa Cosa Guarda Che carino Ci ha fatto Lollina e Alice Sei bravissima Grazie Alice? Sì E dove hai preso quegli occhiali bellissimi? Nella letterina di Giulia Ah sì È vero Giulia è 7 anni Ci ha scritto che ha Un bel po' di Loll Quelle della Big Surprise Più altre Le piacciono i nostri video Ci ha mandato anche dei regalini Grazie Questa letterina Ce la manda Angela Di 10 anni Ci fa due domande Quante Loll hai in tutto? Non lo so Tantissime Adesso penso che In uno speciale prossimo Vi faremo vedere Quante ne abbiamo in totale Qual è la vostra Loll preferita? Eccola Eh Lollina Decisamente Lollina Della serie 1 Poi c'è Alice Che mi fa impazzire Perché ha un carattere meraviglioso Dici davvero? Sì sei fantastica Eh sì Questa è una convinzione di tutti Ah non è soltanto mia No È una convinzione Universale Totale Globale Mondiale Eh sei modesta eh Eh sì Effetti Ma guardate Ma guardate Poi Così sono privati Così sono privati Poi le sue Lolle E poi dei regalini bellissimi Guardate qua Li faccio vedere Un pochino Da qui Non li voglio tirare fuori Tutti quanti Perché appena torna Lara Gliela faccio scoprire a lei Questa letterina Perché è proprio Proprio carina Grazie Angela E da questa bustona È uscito questo pacchettino Una borsina Andiamo a vedere Che cosa c'è dentro Lo vescio eh Ma cosa c'è? Oh Una letterina Col fiocco addirittura E delle perline È pieno di perline Allora Non sono proprio perline Sono proprio Braccialetti E collanine Per le nostre Lolle Guarda un po' Vediamo se ti va Alice Forse ti va questo Se no te lo metterai Al braccino E poi ci sono Delle conchiglie Ma che bella Allora Vediamo che c'è qui Tutto questo Eccola La letterina Guardate che bella Questa diva Anche glitterata Ciao sono Giorgia A nove anni Vi seguo già da un anno E vi adoro Vorrei farmi salutare Dalla regina delle U Ma chi sarà La regina delle U? Eh? Le U? Chi ha detto U? Eh L'ho detto io Però è lei E Giorgia Che dice che tu sei La regina delle U Grazie Sì sono io La regina delle U Hashtag Alice Regina delle U E poi Da Lollina Lollina dove sei? Fa qui Sei entrata nella bustina No? Isci fuori E poi Le piacciono anche Splash Queen Piccatara E lo stregatto Lollosia Trouble Maker Giorgia Ti ringraziamo tantissimo È stata veramente bellissima La tua idea Di mettere tutto quanto In un pacchettino così bello Grazie anche per questi Braccia rettini Forse al braccio Vi vanno Ah sì Guarda come sono elegante Sì poi questo è blu È intonato a te Grazie mille Grazie Giorgia Ragazzi spero che questa Carrellata di letterine Vi sia piaciuta E cercherò di metterne Sempre di più Perché siete tantissimi Le letterine che ci scrivete Sono veramente un facco E quindi ecco Grazie a tutti quanti Per l'affetto che ci date Spero che mi perdonerete Per il ritardo Con il quale riesco a leggere Ma sono veramente tante Quindi io posso Serate, mattinate Notti A leggere letterine A fare le foto Ricordatevi che le foto Delle vostre letterine Io le metto su Facebook Nella pagina Babu Barbara D'Alessandro Ce ne sono già Boh 6-700 di foto Quindi insomma Siete veramente Veramente tanti Un bacio a tutti quanti Grazie mille E rimanete sempre con noi Se vi va Iscrivetevi a questo canale Grazie a tutti i genitori Che vi fanno scrivere Le letterine Che vanno alla posta Che spediscono i pacchetti Che hanno tutta questa pazienza Grazie Spero appunto Che il lavoro che faccio Vi Insomma Che L'attenzione che metto Un po' da mamma Nei video che faccio Insomma Si in odia e si veda E grazie a tutti quanti Un bacio a tutti quanti Ciao Ciao bambini Ciao ciao